buonasera a tutti vi parlo oggi di una nuovissima risorsa gratuita si chiama video puppet e che ci permette di trasformare dei powerpoint delle presentazioni powerpoint in video cosa che non sarebbe assolutamente straordinaria visto che possiamo farlo direttamente da powerpoint ma in più ci permette di poter utilizzare la sintesi vocale in italiana anche molto corretta delle note che noi andremo a scrivere oltre questo potreste decidere di utilizzare al posto della sintesi vocale addirittura la vostra voce inserendola direttamente nel powerpoint il video generato da video puppet poi utilizzerà appunto il vostro commento audio come appunto accompagnamento per tutta per tutta la durata del video il sito è quello che vedete qua videopuppet.com si entra e ci si registra come detto gratuitamente scorro rapidamente il sito per farvi vedere che in realtà sono due le possibilità la piattaforma ci consente di creare video attraverso un codice testuale non mi dilungherò su questo anche perché piuttosto complesso oppure ecco qua caricando direttamente un file powerpoint che è quello che andremo a fare noi mi sono spostato in un file powerpoint appunto che utilizzerò come come esempio e quindi è ovvio che il lavoro dovreste averlo già fatto la piccola premessa che va fatta è che se avete inserito all'interno del powerpoint degli effetti di animazione chiaramente video puppet non sarà in grado di di replicarli quindi lui si praticamente si occuperà soltanto di assemblare le slide e di inserirvi poi un commento vocale insieme a un sottofondo sonoro ecco ma la cosa interessante è questa una volta che voi avete realizzato no tutta la tutta la vostra presentazione dovrete inserire le note e queste note saranno appunto le diciamo i testi che la sintesi vocale andrà a leggere e per esempio adesso facciamo proprio una un esempio completo concreto vado a copiare bene allora devo dare devo lasciare una linea per poter inserire una pausa perché in questo modo io posso forzare il video per allungarlo secondo le mie necessità e tra parentesi metto pause tre poi ancora una linea vuota e poi mi inserisco in pratica il lettore leggerà questa prima questa prima linea questa prima parte di testo poi farà una pausa di tre secondi e poi continuerà con la seconda parte e questo per tutte le diapositive ok quindi vedete che per tutte le varie diapositive state inserite qui per esempio non è stato inserito perché non c'è nessuna pausa bene se al posto delle note voleste registrare la vostra voce dovrete andare su audio purtroppo non posso farlo perché è una versione molto vecchia di powerpoint e quindi non mi consente di incorporare l'audio e non mi funziona poi con video puppet ma vi assicuro che da versione successiva office 2007 questo avviene quindi voi potete andare su audio e scegliere o di caricare un vostro commento pre registrato oppure di registrarlo direttamente quindi a questo punto non andrete a scrivere nulla nelle note e registrerete su ogni slide il vostro commento ora diciamo che la lavoro di presentazione terminato aggiunto le note e devo fare appunto il la conversione in video puppet da powerpoint da presentazione a video quindi ecco le due opzioni quindi vado a cliccare su creat nuovo video e mi fa scegliere il file vado a pescare il file tra i miei documenti credo di averlo ecco qua credo che sia questo e lui lo sta caricando terminato il caricamento ci sono due cose da fare in successione prima devo creare il video quindi clicco sopra su create the video e vedete che lui inizia a operare la vera e propria conversione del file che ho caricato del powerpoint in video il video è stato creato ora c'è da personalizzarlo e quindi vado su customize video e vado a scegliere il formato adesso lascerei 16 noni formato youtube metterei italiano una voce posso scegliere tra una voce femminile o maschile volume lasciamo normale velocità normale ci sono anche dei brani musicali che posso ascoltare precedentemente ok e in questo caso vado avanti quindi andando su su let's go e lui vedete che adesso sta portando le modifiche soprattutto relativa alla parte al supporto sonoro anche questa seconda fase del lavoro è stata ultimata e quindi posso andare a verificare youtube per costruire esperienze di apprendimento presentazione per indire come vedete rispetta del video per la didattica enorme quanti la pausa che io avevo impostato si adatta a tutte le velocità di apprendimento favorisce la memorizzazione di avete dunque avuto modo anche di verificare la qualità della sintesi vocale che rende questo strumento veramente molto interessante non solo diciamo per tutto quello che il mondo legato ai disturbi specifici dell'apprendimento ma per qualsiasi attività di storytelling di documentazione didattica che è comunque per tutta la didattica a distanza perché comunque alla fine il prodotto finale è un video e quindi nulla vieta per esempio di creare una vera propria video lezione in cui ogni diapositiva sia appunto una parte di una sequenza di un di un di un insieme diciamo di contenuti che l'insegnante va ad aggregare per per la propria lezione ma come scaricare quindi questo video al termine si va su download e come usare youtube ecco che parte il video nella sua pienezza e ci si sposta su questi tre pallini e si va su scarica e lui inizia a scaricare il locale adesso vado a spostarmi in basso così potete verificare ecco che questo result è il file che poi andrete a rinominare e che poi utilizzerete nelle modalità che riterrete più opportune potrete caricarlo direttamente nella vostra piattaforma o caricarlo in youtube per essere poi condiviso attraverso il link per la sua semplicità per la sua efficacia ritengo che videopuppet possa ritagliarsi uno spazio nella vostra cassetta degli attrezzi per diciamo tutte le attività di didattica a distanza che andrete a a progettare da qui a ahimè alla fine dell'anno spero possa essere stato di vostra utilità e ci sentiamo ai prossimi tutorial